Molto difficile, abbiamo analizzato la loro squadra, sapevamo che tecnicamente erano molto forti, provavano sempre a giocare pure nel campionato loro, quindi sapevamo che sarebbe stato difficile pure per l'intensità che ci mettono, ci dispiace per il risultato perché siamo andati in vantaggio, noi abbiamo avuto ancora le occasioni, nella seconda parte, per le occasioni per fare male a loro e non siamo stati caprici. Però era partita bene, sono subito in vantaggio, sembrava quasi una stata spianata, poi all'improvviso, che è successo? No, è quello, sapevamo che sarebbe difficile la partita, abbiamo peccato Libri nella gestione perché siamo scesi un po' e loro facevano una pressione molto forte nella nostra uscita, quindi era rischioso, però abbiamo provato a giocare fino alla fine a fare il nostro gioco. Come cambia la squadra quando manca immobile, anche in questa fase di gestione del pressing? Perché poi tu hai caratteristiche diverse, ecco, è difficile adattarsi da un giorno all'altro, soprattutto a questi ritmi in Europa? No, oggi noi lavoriamo tanto, parliamo tanto, ci sono delle analisi, gli stessi, sa che ci sono giocatori con caratteristiche diverse, quindi noi ci adattiamo sempre, quello ci manca sempre quando un attaccante come immobile in qualsiasi squadra del mondo, ci mancherà sempre perché lui nell'occasione non perdona, quindi a noi ci manca sì, però dobbiamo guardare avanti perché abbiamo fatto il tempo stante, dobbiamo fare punto. Filippo, però la sensazione è che, insomma, come dicevamo prima, dopo il gol di Petro poi vi siate un po' spenti, no? Era un po' che non succedeva in realtà. Tu adesso dici che la Lazio ha sofferto una squadra che comunque pressava, una squadra con un'alta intensità. È possibile che poi non siate mai però riusciti a riprendere in mano la situazione, cioè non avete più dato la sensazione di essere presenti, voi ci avete provato tanto, però non c'eravate come nei primi minuti. No, sicuramente abbiamo provato a fare il press in alto per loro, loro sono bravi, come ho detto, tecnicamente, quindi non era semplice, sappiamo che in Europa l'intestità è molto alta, molto forte. Abbiamo fatto tante parti della partita, tratti della gara, molto molto bene, quello che abbiamo provato, però nel calcio succede che a volte non riusciamo, perché pure gli avversari ci studiano, quindi dobbiamo adattarci un pochino più veloci nelle situazioni come abbiamo ballato adesso, quindi quando andiamo in difficoltà subito ci stiamo bene. Ma quanto è compromesso adesso il passaggio di Poto? No, non sappiamo che sarà difficile, non sappiamo come sarebbe stato difficile oggi, però noi sappiamo che abbiamo creato, sappiamo che loro ci daranno un po' di spazio da giocare, quindi noi sicuramente andiamo a morire per provare a tutti. Io provo a dare il mio meglio, alcune partite sono andate bene, altre non tanto, però io non parlo di spazio da giocare, perché credo è un'attività di società di decidere. Grazie, grazie.